Questa sigaretta elettronica della IMAGIC che arriva in questa scatola carina con istruzioni d'uso con spiegazioni come si riempie con liquido con il cavetto carica batterie usb micro usb con un atomizzatore di ricambio e poi arriva la sigaretta allora è di colore nero bello pesante non scivola dalle mani così da sotto qui si carica qua abbiamo bottoni allora qua schiacciando tre volte forte si accende poi quando abbiamo acceso possiamo abbiamo tre tacche da 10 watt 20 watt 30 watt 40 a 50 watt come potenza già vi dico 10 watt sono fortissimi comunque schiacciando noi alziamo ne vediamo che al massimo se vogliamo diminuire scendiamo vediamo che c'è una luce per vappare si tiene premuto questo terzo pulsante più in alto sentite pure il rumore ovviamente si aspira vi avviso che è veramente forte anche solo con 10 watt allora qua poi abbiamo la bocchettina dell'aria che possiamo aprire a basare nostro piacimento questo è il ricambio diciamo atomizzatore all'interno e questo è il liquido che si mettono vari sapori come vogliamo noi e questo è un pezzo unico quando dobbiamo cambiare si sfida questo pezzo sopra si mette liquido e siamo a posto molto carino sta molto comodo nella mano piacevole da tenerlo nella mano io lo consiglio a tutti perché questo si arriva fino a 50 watt quindi vi dico sinceramente già 10 è forte quindi che dirvi io ve lo consiglio vivamente questo è il prodotto molto carino come potete vedere elegante quindi svappate ciao